Una delibera approvata dalla Giunta Comunale lo scorso gennaio ha introdotto grandi novità per quanto riguarda la sosta dedicata alle persone con disabilità titolari di contrassegno. È stato fatto un grande lavoro sia col tavolo di concertazione di persone con disabilità sia con il disability manager proprio per apportare delle novità. Una di queste è dare la gratuità alle persone con tagliandino certificato dell'Europa quindi disabilità di parcheggiare gratuitamente su tutta la zona blu. Questo dovrebbe essere fatto a livello nazionale ma per ora l'abbiamo fatto qui a Torino. Un altro tema è dare la possibilità ai bambini che hanno una disabilità definita transitoria di avere la possibilità di avere dei permessi ad personam sotto casa. La delibera in questione è il risultato di un dialogo intrapreso con tutti gli stakeholders tra cui le associazioni. Un obiettivo comune che potrebbe essere esportato anche nel resto d'Italia. Per la gratuità della zona blu è una discussione che arriva da molto prima di me quindi di questa giunta proprio perché le persone con disabilità non sempre riescono a trovare gli stalli gialli, gli stalli gialli liberi e quindi c'era diciamo questa assurdità che veniva detto se non trovi uno stallo giallo libero puoi parcheggiare nella zona blu però è difficile poi da controllare. Quindi si era dato un permesso nella precedente giunta alle persone che per motivi sanitari o di lavoro si spostavano più di dieci volte da casa. Il problema era tutte le persone che invece volevano semplicemente uscire e poter parcheggiare con la persona o il proprio caro o disabile tranquillamente in città. Per quanto riguarda invece il discorso dei minori, devo dire che le famiglie che hanno bambini che hanno dei problemi così gravi non hanno voce perché le persone che soffrono veramente non riescono neanche arrivare all'amministrazione a dire i loro problemi. Quindi abbiamo scoperto da una famiglia che aveva queste problematiche molto grave e l'abbiamo affrontata.